Oh, cos'è questo? Oh, quello è un piccone Poserebbe scavare la pietra E magari, se è sfortunato Diamanti Quindi ora Dove? Steve? Steve! Steve, cosa stai facendo? Non ti ricordi la prima regolosa Minecraft? E quale sarebbe? Non scavare mai sotto di te Oh oh Boom Ehm Buongiorno Però un'altra volta no Un'altra volta no Oh oh Quando torno su non vorrei mai vedere la faccia di abito Che avrà Axel No, Alex, ecco Te l'avevo detto io Sì, sì, dai, va bene